Abbiamo letto la notanza con cui Lega Serie A ribadisce che per quanto riguarda la formulazione e la compilazione dei calendari c'è il massimo rispetto nei confronti di tutti e si cerca di contemperare le varie esigenze. Noi crediamo che Lega Serie A abbia perfettamente ragione, noi crediamo che ci sia rispetto da parte di Lega Serie A, un rispetto che non è in discussione, è un lavoro non facile nella compilazione dei calendari perché poi non bisogna contemperare solo le esigenze delle squadre ma anche delle tv che investono fior di denari sul campionato italiano di Serie A, su questo non c'è dubbio, però la nota che è apparsa sull'ANSA in risposta alle dichiarazioni di Stefano Pioli di ieri sera, attenzione, dichiarazioni di Stefano Pioli che sono state fatte dopo la partita, a vittoria acquisita e meritata da parte della Lazio, Stefano Pioli non ha parlato prima della partita, non ha messo le mani avanti prima e non ha cercato alibi poi, però che nella nota dell'ANSA si parli soltanto di Milan-Lazio rende la precisazione un tantino incompleta perché la stessa cosa era accaduta a settembre, a settembre la Fiorentina gioca il mercoledì con la Sampdoria, il Milan il giovedì a Torino e poi la domenica sera c'è Milan-Fiorentina, quindi anche a settembre rispetto alla Fiorentina che non gioca l'Europa League rispetto alla Lazio, c'erano state 24 ore in meno di riposo da parte del Milan. Milan che ha, è meglio metterlo subito e bene in chiaro, lo diamo per scontato ma non tutti evidentemente lo tengono in conto, il Milan ha i suoi problemi, le sue difficoltà, i suoi errori e le sue colpe, il Milan non è a 13 punti e undicesimo in classifica per via della formulazione dei calendari e della compilazione dei calendari e delle ore di riposo, però a livello istituzionale stiamo parlando di situazioni che vanno al di fuori del campo perché poi sul campo sia la Fiorentina che la Lazio non hanno meritato la vittoria, se ci sono stati due casi in cui il Milan ha giocato il giovedì e la domenica contro un avversario che ha goduto di 24 ore di riposo in più, i casi sono due, non uno, non solo la Lazio ma anche la Fiorentina ed è una cosa che non è mai capitata al Milan, mi auguro nemmeno alle altre squadre, ma noi di Milan ci occupiamo, in tanti tanti anni di formatazione dei campionati. Quindi da questo punto di vista Stefano Pioli ha semplicemente commentato dopo la partita riconoscendo il merito della vittoria della Lazio un episodio strano, del tutto particolare, anomalo, abnorme, come quando alla prima giornata di campionato il Milan ha perso anche lì, giocando male, giocando molto male e in maniera meritata udine, però c'era un fallo da rigore per un braccio di Samir, il giorno dopo abbiamo sentito invece con una dichiarazione degli altissimi livelli del mondo arbitrario italiano che la deviazione era stata di spalla. No, il Milan ha perso con pieno merito a Udine e l'arbitro non ha inciso sul risultato, ma quello di Samir era un braccio ed era calcio di rigore. È strano che tutte le volte che ci sono delle questioni che riguardano il Milan c'è la precisazione appuntita che non esaurisce il tema, perché dopo Udinese-Milan, e ripetiamo, sconfitta meritata dal Milan che ha giocato malissimo, quello di Samir era un braccio e non una spalla. E dopo Milan-Lazio 24 ore di riposo in meno a favore del Milan con la Lazio, gli episodi sono due, Milan-Fiorentina a settembre, Milan-Lazio a inizio novembre, ma se ne parla solo di uno. Ecco, è strano che quando c'è di mezzo il Milan, insomma, i commenti del giorno dopo non siano mai molto aderenti a quello che è accaduto. Però, ripetiamo, il Milan non deve guardare gli errori arbitrali, non deve guardare la programmazione TV. Bisogna risolvere tante situazioni, tanti problemi. Il lavoro di Stefano Pioli è in corso e non sono le decisioni arbitrali o gli orari e i giorni di gara delle partite ad incidere sulla stagione del Milan. Però, se usciamo un attimo dal campo e parliamo soltanto di quello che accade sul campo, ecco, è strano. È strano perché se c'è anche Milan-Fiorentina con 24 ore di riposo in meno, poi bisogna vedere se incidono, se non incidono, se sono importanti, se non sono importanti, perché poi quando si sta bene, quando le squadre sono forti e in forma, non stanno a guardare giovedì-domenica. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Però, due casi con 24 ore di riposo in meno, soprattutto quando si hanno le difficoltà, sono particolari. Soprattutto perché la Fiorentina non ha l'Europa League, mentre la Lazio non si poteva giocare di lunedì perché il giovedì poi la Lazio ha l'Europa League e questo lo comprendiamo perfettamente ed è giusto. La Fiorentina a settembre ha giocato con 24 ore di riposo in più rispetto al Milan, ma la Fiorentina non ha l'Europa League. Però di questo oggi, nel commento del giorno dopo, non si è parlato. Resta valido e assoluto il concetto del massimo rispetto con cui lavora e di questo noi siamo perfettamente convinti ogni giorno. Lega Serie A.